Massimo Pollidori si riparte dalla trasferta di Sorrento, ricordiamo il pari della gara d'andata, non bisogna assolutamente sottovalutare l'avversario, quali le insidie di questo match in esterna? Sicuramente non va sottovalutato perché l'andata ci ha messo in difficoltà, abbiamo trovato una squadra ostica che si chiudeva bene e ripartiva, poi hanno cambiato le nature da poco, il mestre Maiuri sicuramente vorrà partire subito forte, ma noi dobbiamo pensare a noi e giocare come sappiamo, forti, determinati, perché abbiamo un obiettivo troppo importante da raggiungere e domenica dal primo minuto sarà battaglia in campo. Ecco, importante è stato il risultato di domenica scorsa, qui al Monteresi contro il Pomigliano bisogna continuare su quella lunghezza d'onda. Certo, era importante partire bene anche perché avevamo cinque punti di distanza dal Picerno, fortunatamente siamo riusciti a rosicchiare due punti, però non ci accontentiamo, noi abbiamo questo obiettivo che è da raggiungere e ci metteremo tutto noi stessi e sappiamo che non possiamo quasi più sbagliare, partita dopo partita, potremmo pensare a raccogliere il massimo e poi vediamo alla fine chi arriva davanti. Quale deve essere la forza di questo audace Cerignola nel girone di ritorno in vista di match più probanti come saranno quelli contro il Bitonto, contro il Taranto e via dicendo? Ma il gruppo come l'è stato sempre dalla prima partita perché abbiamo un grande gruppo, abbiamo una grande organizzazione, una grande società che non ci fa mancare niente quindi dobbiamo stare tranquilli, lavorare al massimo come facciamo e poi partita dopo partita affrontare in base all'avversario anche, prepararci bene e poi ti ho detto raccogliere tre punti ogni domenica perché non ci vogliamo più fermare.